Ora abbiamo la nostra finestra sulla Spezia che è proprio alle mie spalle e andiamo dal sindaco uscente, ricandidato per il centrodestra, Pierluigi Peracchini, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora sindaco, cominciamo dalle sensazioni dopo questa lunga campagna elettorale, ormai mancano pochi giorni, anche alla Spezia si vota il 12 di giugno in una sola giornata, sento attorno a lei, dalle dichiarazioni dei suoi alleati, grande entusiasmo e grande convinzione, la percepisce e la condivide? Obiettivamente sì, c'è una grande positività nell'aria, c'è una voglia di continuare a lavorare, a migliorare, a realizzare i tanti progetti che purtroppo la pandemia e poi il 110 e poi la guerra ci hanno rallentato, ma tanto è stato fatto e c'è proprio questa voglia di cambiamento, di migliorare e di rendere la città sempre più bella. E questo è il vostro obiettivo, avete governato cinque anni, mi dica la cosa che l'ha resa più orgogliosa in questi cinque anni e quello che invece non è riuscito a fare e che vorrebbe completare. Beh, è la cosa che mi rendo orgoglioso ogni volta che riusciamo ad aiutare una persona, che riusciamo a dare risposte a chi non ha più nulla, questa è la cosa che dà senso alla vita e quindi anche a un mandato amministrativo. Poi certo, se penso al parco delle mura, al parco di rimembranza, tante cose che abbiamo fatto, anche quelle insomma mi riempiono d'orgoglio, però dico la verità, aiutare il prossimo è la cosa più bella, strappare un sorriso a chi è triste è la cosa più bella che possa assolutamente succedere all'amministratore. Poi per quanto riguarda il resto, sinceramente noi abbiamo provato a realizzare tutto il realizzabile, non è stato un mandato semplice proprio perché, come dicevo prima, la pandemia ha bloccato tantissime progettualità e tantissime cose. Ora, progetti in corso che stanno per terminare sostanzialmente sono il recupero del rifugio antiaereo della schienata Quintino Sella con un percorso interattivo molto bello dove ci sarà la prima parte della storia medievale della città, da Simon Boccanegra in poi, la seconda parte sarà la simulazione del bombardamento di Seconda Guerra Mondiale, in più concluderanno i lavori del recupero della fortificazione di Val di Locchi, la batteria di Val di Locchi è una fortificazione molto bella dove faremo eventi culturali e altri progetti che sono già appaltati in corso e che purtroppo sono solo in ritardo, tipo aspettando il waterfront che sarà un assaggio del nuovo frontamare della città in sincronia con l'autorità portuale dove dopo 131 anni una parte della calata Paita sarà restituita alla città, alle funzioni urbane. Questo dunque per quel che riguarda ciò che ancora resta da fare. Sulla tema sanità, alla Spezia ovviamente tutta la polemica politica è ruotata negli ultimi anni attorno all'ospedale del Felettino, su cui ovviamente il Comune ha una competenza relativa perché quello è un appalto regionale che ha avuto una strada molto complicata. Qual è però la prospettiva dal suo punto di vista per dare alla Spezia una sanità migliore rispetto a quella attuale? Sì, beh intanto chi urla è quello che ha creato questa situazione e quindi dovrebbe quantomeno smettere di strumentalizzare e di creare ansie inopportune. Pensate che la Spezia è una mobilità passiva di 50 milioni di euro su 400 di fatturato la nostra ASL da oltre 30 anni, un ospedale che ha oltre 100 anni, finalmente è uscito il bando di gara un mese fa grazie alla giunta Totti, un lavoro particolarmente importante perché il progetto che era stato appaltato nel 2015 è stato revisionato in base alle nuove normative antisismiche, in base alle nuove normative idrogeologiche e in base alle nuove predisposizioni in materia sanitaria, quindi la digitalizzazione della sanità e l'eventuale ulteriore pandemia, speriamo che non sovesse mai verificare, però è stato revisionato il progetto, ci sono i soldi, ora aspettiamo l'assignazione della gara entro 5 mesi e poi 6 mesi per il progetto definitivo, esecutivo e inizieranno i lavori sostanzialmente l'anno prossimo di questi periodi. Detto questo la situazione della sanità in Italia è talmente critica che voi sapete il governo ha chiesto all'Unione Europea di dedicare una linea del PNRR proprio alla riorganizzazione del servizio sanitario nazionale e quindi regionale con tre punti cardi, un ospedale per acuzie, un ospedale di comunità per la fase post-acuta oppure per le patologie croniche non gravissime e poi la casa di comunità dove fino al codice bianco i medici di famiglia, gli specialisti, quindi ci sarà la diagnostica e vaccinazione e tanto altro, quindi al posto di andare in tasare i pronti soccorsi fino al codice bianco sarà lì data la risposta ai cittadini, però questo è un percorso lungo che non deve essere strumentalizzato politicamente indipendentemente da chi governa perché è un percorso troppo serio che è quello della salute dei cittadini che tocca ogni momento della vita di ognuno di noi, ma il limite vero è che mancano i medici in Italia, mancano oltre 70.000 medici, in più ci saranno altri pensionamenti nei prossimi anni e il numero chiuso della facoltà di medicina c'è ancora e purtroppo finché non viene eliminato noi difficilmente riusciremo ad affrontare tutti i bisogni che ci sono in sanità e soprattutto in particolare tipologie professionali, mi riferisco ai anestesisti, ai medici per medicina d'urgenza, al pronto soccorso, quindi bisogna sicuramente che ognuno faccia la propria parte, mi pare che ora in Regione Liguria le idee si è ancheare, sul territorio c'è una fase transitoria da gestire, investimenti di 8 milioni sono stati programmati e quindi bisogna lavorare, lavorare e smetterla di urlare su temi così delicati. A Genova abbiamo detto che c'è la candidite perché ci sono oltre 700 candidati in una città da 570 mila abitanti, alla Spezia c'è la candidite acuta perché i candidati sono più di 500 in una città che però è un sesto degli abitanti rispetto a Genova, come mai tutta questa corsa a candidarsi ed è preoccupato anche della parcellizzazione che gioco forza con così tanti anche candidati sindaco, ce ne sono di più alla Spezia che non a Genova. No, è una malattia ormai diffusa, la patologia, ce ne sono tante patologie, c'è anche questa, 5 anni fa era peggio, c'erano 12 candidati a sindaco e 800 candidati, 27 liste, questa volta c'è andata bene, 10 candidati a sindaco e 20 liste, ma poi la gente saprà scegliere il voto utile, saprà scegliere se andare avanti nel rilancio della città o tornare indietro a una città triste, sporca, insicura, perché l'alternativa sinceramente può essere solo quella di tornare indietro, quindi noi siamo fiduciosi nel lavoro che abbiamo fatto, siamo fiduciosi nel rapporto che con tutti i cittadini abbiamo ogni giorno e quindi pensiamo che il 12 giugno ci sia una risposta adeguata anche alla candidita insomma. Lei è più preoccupato delle potenzialità dell'avversaria principale, quella cioè del centro-sinistra, o invece di magari azioni di disturbo di liste che potrebbero essere vicine a lei dal punto di vista teorico dell'elettorato come quella di Nanni Grazzini? No, assolutamente, noi siamo persone serie, abbiamo lavorato 5 anni, 18 ore al giorno, tutti i giorni, quindi siamo veramente sereni, io sono molto sereno, più di così non si poteva fare perché prendere in mano un comune di fatto fallito con 60 milioni di debiti, 69 milioni di crediti inesigibili, cioè spesi che non ci sono e 18 milioni di mancati accantonamenti e rilanciare la città, una città col fallimento di Acme era sommersa dai rifiuti, situazione terribile, avevamo i mezzi pubblici con età media di 16 anni, andavano a fuoco, ecco rimettere a posto tutto questo, dare una visione di futuro col Miglio Blu, con grandi progetti che ad esempio sono come quello del Waterfall, la stazione crocieristica, l'Enel che investirà, ha cessato l'uso del carbone grazie a noi in questa città il 31 dicembre e farà progetti innovativi, insomma ci sono tanti progetti, tante cose da fare, lo Spezia inserà non da ultimo, più di così non si poteva fare, giustamente il 12, chi andrà a votare potrà decidere se premiare o bocciare un'amministrazione che ha fatto tantissimo per il futuro della città, per ogni spezzino e quindi anche per il futuro dei propri figli. Chiediamo con la domanda più importante, lo fate lo stadio? Dunque stiamo aspettando dallo Spezia Calcio la proposta definitiva, perché a fine dell'anno e dell'anno scorso avevamo fatto un ragionamento sullo stadio a 16 mila posti, le regole sono state cambiate in corsa, ora il minimo è diminuito a 12 mila e lo Spezia Calcio mi ha detto che stavano studiando due soluzioni alternative e entro fine giugno ci presenterà un progetto che dovremo condividere, al limite cofinanziare perché l'impianto è nostro, per chiaramente far giocare la nostra squadra alla Spezia anche quest'anno, per la terza volta in Serie A, un grande risultato storico, un grande sogno che va avanti e dove noi siamo e saremo protagonisti. Grazie mille a Pierluigi Peracchini, candidato sindaco della Spezia e sindaco uscente anche nella città capoluogo di provincia del Levante, si vota il 12 di giugno dalle 7 alle 23 in un'unica giornata. Grazie Peracchini.